La legge delega sulla riforma fiscale sta per prendere corpo, ci stanno lavorando molto approfonditamente le commissioni di Camera e Senato, dobbiamo dire che l'obiettivo è quello di diminuire la tassazione ad imprese e contribuenti, in modo particolare per la fascia che va da 28 mila ai 55 mila Euro, che sconta un'aliquota del 38%, ebbene c'è bisogno di una riduzione sensibile di questa aliquota e non di un'operazione di facciata, ne beneficerà tutta la nostra economia.